Benvenuti in questo nuovo video, questo oggi è un giochino particolare Just Act Nature Just Act Nature Praticamente è un giochino dove ci si deve nascondere e mimetizzare Il guest 2 digi mod super mega stupendo Ma con tante moneta particolari E capiteranno a caso una dopo l'altra Perché ho messo la moneta dove può capitare qualsiasi minigioco Quindi cerco di spiegare, ve li stanno da facendo Per favore mettete redi, avete il tastino lì verde L'abbiamo già messo tutti Lo vedete? Lo vedete? Allora premo E' un po' il mosto E quindi era colpa di Steph Kill the king Allora qua vedete, uno sarà il re Dovete cercare di rimanere come re Dovete cercare di sopravvivere Ok Che bello Mi piace Mi piace Siamo troppo carini Ok Allora calma Chi è il re? Il re è qua davanti a me? E' lui? E' lui? Ah Chi mi ha messo in prigione scusatemi? Io In prigione? Ma non ti stavo uccidendo? No, io praticamente devo proteggere il re Quindi se voi attaccate il re io lo vedo Ah ok No, è bellissimo Quindi dovete riuscire a fare le kill stealth Allora Ragazzi qualcuno mi salva dalla prigione? Io allora stavo cercando di uccidere il re Ma sono stata imprigionata Io non ho fatto niente Sono stata imprigionata No Perché ti ho visto muoverti e ho capito Sembra che Stef ci osservi dall'alto Io ci osservo dall'alto Ah ok E voi dovevate killare il re e il nobile Senza farmi notare Esatto Dobbiamo essere più sneaky Dobbiamo essere più sneaky Ma ok Ma va bene va bene Quindi come ho visto ad esempio Marci tirar dritto come un cinghiale Tra yarder Anche l'ho tirato dritta come un cinghiale Lo ammetto L'ennesima persona che tra yarder in un gioco Stef Eccolo qua Dovete prendere i diamanti di nascosto Uno di noi però vede dall'alto Ah ok Perfetto Chi è dall'alto? Forse io Io sono Ikram Ma come vi vedo raga Ma che è sta roba? Quindi vince chi prende più diamanti Però c'è Fere che ci osserva Ok Mark ha preso un diamante Non è vero Anch'io Anche Marci Eh non è semplice secondo me No 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 Semplicemente non vi vedo perché sono un idiota patentato Cioè Quello l'ho visto Chi ho ucciso? Ah 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 No Vincito al diamante Brava Fere Ho capito che devo camperare i diamanti No ha sbagliato Fere Ok Eh vabbè stava vicino Guarda che perdi punti ogni volta che sbagli una kill Ok Fere Lì 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 Al diamante destro Lì 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 No destra 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 Eh difficile muoversi Quello Questo Sì No Stef No Stef Dovresti Cioè Cattiglia Non dovresti fare lo snitch No 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 vedi che ognuno fa i suoi punti Io ho deciso di far fare punti a Fere piuttosto che a Mark Mamma mia Senza E ci tengo a dire Non perché Fere è la mia fidanzata Ma perché odio Mark È quello No ma cos'è la mia fidanzata Non sei? No 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 Ok Adesso Adesso Così facciamo un po' di gossip 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 Allora uno è sempre Seeker I'm not Lui E io cosa devo fare? Dovete arrivare alla fine della gara Chi è che stava sparando? Io ho sparato a uno E Marci perché zitto come una mummia Eh raga scusate non avevo capito No Marci è proprio una mummia eh Marci è un po' troppo traiardino Marci ogni volta che sbagli perdi tre punti Intanto sono senza punti Io quindi Sì ma c'è una classifica a lungo termine No Eh ma io sono a zero punti Già non penso di andare in negativo no? Non lo so Sì 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 vai negativo Tu dove sei? Eh Fere io sono lentissimo Eh questo io è Steph lo sai? Vedete che mi sta proprio piacendo questo gioco Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto ce l'ho fatta Ho usato una tecnica infallibile Mi sono nascosta in mezzo a tutti gli altri Ho lasciato morire Mark Che era difficile Yes Oh raga era difficilissimo Lo so è difficile Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Guardate quanto è brutta Raga non li facciamo Guardate quanto è brutta Eh raga no il problema è che io non ho comprato le cose premium Io vedete che sono un bel piratino No Steph Steph regalami le cose premium così adesso mi faccio il portano Fere hai detto che non siamo più fidanzati No adesso lo siamo Regala No 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 Avete sentito anche voi no? No 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 Tu regali il premium per riconquistarla Regala il premium per riconquistarla Premium Ragazzi sto startando No 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 Voi non ci ho fatto Death Race Perché io ho le cose solo free quindi non posso scegliere Death Race Cos'è la Death Race? No bene Fere quella di prima Adesso la di prima È un genio Chi è che guarda? Eh io di nuovo Questo gioco io ve lo dico È troppo carino L'ho trovato random guardando le nuove uscite di Steam No Così lo dico anche ai ragazzi che ci ascoltano E me ne sono innamorata ma non pensavo fosse così bello Marce ha fatto almeno 3 punti Marce ha fatto almeno 3 punti Ragazzi mi viene troppo da schiacciare ve lo giuro No Marce non devi schiacciare Corro sono matto È impazzito è impazzito È matto E non me lo dicevi non ti uccidevo Vabbè dai ci stava Marce Ragazzi Fere vince di nuovo Fere vince di nuovo ragazzi Fere vince di nuovo Marce penso che abbia già perso col primo match Ho preso 4 punti perché Fere è arrivata raga Mi è arrivata una roba Eccolo Il King Magnavena l'altro Ragazzi top Meno 30 Marce se fai così non puoi vincere Meno 33 Laga è troppo Cioè La giocifica è più round Marce Non si fai così è finito Hai ragione ma non mi diceva fermare Non l'avevo visto Bravo Marce Sì Bisogna averci Allora qua praticamente siamo tutti degli heider E dobbiamo prendere più frutte possibili Ma possiamo croccarci a vicenda Non so chi ha fatto sto fumo Non vedo più nulla Non lo so Lo sapevo Chi era era Marci No Ero io Come si prende la frutta raga Non so come si prende la frutta Bomb Fere ripete No 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 dai Ne sa ragazzo Ne sa ragazzo Come si prende la frutta Cioè alla fine è stata una battle royale Altro che prendere È stata una battle royale questa in realtà Raga meno 27 Ce la rimonta Ce la rimonta Il comeback Ragazzi non potete stare zitti No 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 c'è del tryhard atomico Ragazzi Io non tryhard in sto gioco Sto tryhard Sto prendo bene No no Allora Guarda che prendo il diamantino sta scema C'è Steph Non mi tucciare Non mi tucciare Hai sparato random Io sono innamorato di questo gioco Vede che accusa pesante che hai fatto Che accusa pesante Bra random proprio Ma quindi in questo momento rimango solo io vivo Sì Diamantini tutti per me No ragazzi Faccio il record Dalle Ragazzi fermiamolo vi prego Sette 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 Cinque Marci ha capito che non può fare troppi più tre E si è reso Sì sì io ho sbagliato Mi sono fermato Già ne ho fatti più Io sono in negativo eh Ragazzi Mamma ragazzi 18 Mamma 18 Superabile L'importante è non essere ultimi raga Incredibile Incredibile Grazie Marci Allora E quali hai Assassins Non l'abbiamo mai fatta Vai Allora mi sa che assassini Siamo tutti nascosti E ci dobbiamo chila Tra di noi Molto silenzio Ho ucciso qualcuno Sei uno stupido cretino E ha sparato a caso Perché ero fermo No no Ti ho visto Bam Si ritorna in vita Ragazzi io non vi trovo Lo giuro 1v1 No chi mi ha ucciso Io non vi vedo Non capisco chi siete Io non ho capito come si usano le monete Ma voi Neanch'io Che metti danno solo un coin in più C'è un punto in più No 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 dai Stavo per spararti Io ho fatto tanti meno tre ragazzi a sto giro Io ho perso punti Ragazzi io non ho fatto punti Non vi trovavo Ho fatto meno tre di nuovo Io ho fatto punti Io ne ho fatti un bel po' Mannaggia più quattro Madò 23 a nove Più quattordici Esatto Come ha fatto Come ha fatto Come ci è riuscito E' tostina Il più quattordici Siamo dei bodyguard Ciao ariana grande Eccomi In realtà cloud chaser È un termine molto brutto In America Ma davvero Sì Eh va bene Io non lo sapevo Scusami Allora se volete Vi faccio anche Con la canzone super quark Sotto la spiegazione Di cloud chaser E' una persona Che sta a fianco Le persone famose Solo per grabbarla Ah vabbè Ma pensavo molto peggio Vabbè Però diciamo che è molto brutto Come cosa dire Le celebrità ragazzi Chi devo colpire Non ho capito Non devi colpire nessuno Devi ammazzare Noi capendo Quando andiamo vicino Alle celebrità Se sei quella che spara Capito Esatto Ok a non fare tanto in meno Tre Ha colpito qualcuno Sì Sì Ma Marci dove era Che tutto ciò Non lo so No Secondo me Ero zitto Ero zitto Perché Ero di fianco a Ferre Non sapevo come Eliminarmi Ma Marci è morto Però Anche step è morto Alla Al momento è dietro Eccolo Ce l'hai Di fronte a te Lui è quello lì Brava Ragazzi Hai fatto tipo 30 punti Vediamo Non penso di averne fatti tanti Perché ne ho sbagliati parecchi No 44 Se la vince 21 Bellissimo Bellissimo ragazzi Sono innamorato di questo gioco Voglio registrarlo Per il resto dei miei giorni Ma quindi Sono Death Face Chi è? Chi è? È Marci Non ce lo dice È Marci È Marci Palese Non ce lo dice Vuole fare un sacco di meno tre Signor Marci No 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 Anzi Guardi Io vi osserverò per bene Ma avete noto che si fermano i tizi Anche io non avevo capito che si fermassero anche loro Ma ci sono i teletrasporti È per quello che è difficile E anche i tizi prendono i teletrasporti Che è che ho fatto fuori? Tua zia Yes Marci è arrivata Dov'è la fine però Stef? Aiuto Guardate te 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 Spero tutti No No ho vista Meno no è pesante È già fuori dei giochi Sto ragazzo Era la prima volta Era la prima volta E devo cannonare Io non vi becco Sto fermo C'è che vinca sta lavando Leo ragazzi Sono bellissimi Come state? Bene Tutto male Tutto bene Tutto bene Bene Io bene No no tu male Ma come io male? Sì 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 Lo so Perché stai per fare una brutta fine Ti ha provato Eh sì Ti ha preso? È l'unico che si è andato dritto Vabbè no Anche prima comunque le NPC Andavano dall'altro lato Quindi ci ho provato È andato È andato così ragazzi È andato È andato È tosta È tostissima È andata È tosta Ragazzi Sono deluso da me stesso Sei deluso? È normale sei deluso Primo Yes È andato È andato Non potevi più muoverti? Sì l'hai tirata tu De Mark Non ho detto niente Perché se no Mark L'avrebbe notato E mi avrebbe uscito Quindi sono stata zitta Sì no ragazzi È intelligente Lo so grazie Non c'è bisogno De Mark Meno 9 Non farlo Stai affidati Non farlo No Non farlo Guarda qui Non farlo Noni Ma no Ma come fanno a bustare certi ragazzi C'è nel tryhard Nell'aria Steph Corro Non ci credo Non ci voglio Che stifo Non c'era nessuno Gli ho uccisi tutti Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ragazzi ho fatto una roba meravigliosa Vedi ci avrei vinto E alla fine perché ho detto L'unico modo sarà vedere la loro avidità Il loro schifo del tirar dritto all'ultimo momento Per la prima volta nella mia vita dopo due anni e mezzo Che registriamo assieme Ho applaudito Steph Non lo so Non ho sentito nulla Nel caso E hai fatto il cibo Ciao 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 campioni